Mi piace Eeeh Bene Mi scusi Buon uomo E' comodo? Prego il coltello Grazie Ma che ca... Marta Ma Ashley che non dice nulla? Porco boia Ma l'ha uccisa Ma... Eh scusa Ashley che ho sparato in testa ad Ashley Ma... E' successo di nuovo Gira Leon gira Leon gira Via 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 Ragazzi io non ho colpi Come lo uccido sto coso? Non l'ho fatto apposta Si è messa in mezzo Ero Ero Come lo so Iro As40